Buonasera amici e amiche di www.coppiaaperte.com Noi siamo la coppia numero 26 e io sono la Valery Ovviamente è un nome di fantasia, altrimenti poi a lavoro mi danno fastidio E lui invece è Zonny Ovviamente anche questo è un nome di fantasia, altrimenti poi a lavoro lo possono dedicare Zonny, ma quale Zonny? Ma se lo sanno tutti, ormai che c'è mio marito Baldieri Fabio Noi siamo due persone birichine, forzeline, aperte a tutto Sabato ad esempio abbiamo fatto sesso, io, lui e Marione E mio marito si è proprio scatenato, sembrava un'anguilla, si muoveva, si contorceva, saltava su e giù Ma che cosa stavi facendo? Nascondevo il culo a Marione A me piace un sacco il sesso in macchina, il car sex Ma mio marito c'ha paura Ma prima devi E allora mi metto sopra di lui, ma lui c'ha ancora paura Ma prima devi E allora t'appozzo tutti i vetri con i giornali, ma lui c'ha ancora paura Ma prima devi Ma che cosa devo fare prima? Devi parcheggiare Io sono amante perfetta, soddisfo tutti i desideri Mio marito infatti mi rompe sempre per fare un ménage à trois con una donna E io per accontentarlo ho chiamato una milf, una porzelona Ma lui niente, appena abbiamo iniziato subito a lamentarsi E te che vedi, non mi sia! Noi siamo una coppia un po' vistiosetta Ultimamente abbiamo scoperto di essere dei cleptomani sessuali Si ezzitiamo a rubare nei sexy sop La scorsa settimana abbiamo rubato un vibratore E sapete perché non ci hanno preso? Vero dire! Bene amici e amiche di www.copiaperte.com Il nostro tempo è scaduto E tu ricordati Se ti piace il sesso coinvolgente, passionale, travolgente, chiamami Se invece sei interessato a un incontro uomo uomo e sei super dotato Appena raspegne, ti chiamo io! Grazie! Vitti e baldieni!